Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Lord Thunder, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi in questo video parliamo nuovamente in questo video speciale di Halloween Hands. Nuove info e nuovi aggiornamenti. Da poco la Universal Pictures, coloro che stanno distribuendo Halloween, tramite ovviamente l'intervento anche della Blue Mouse, hanno pubblicato, ragazzi, qualche trailer, spot, barra, info in più su Halloween Hands. Voi sapete che io, essendo un fan di Halloween, spero anche voi della saga su Michael Myers, soprattutto questa nuova trilogia, siate contenti di questo finale che veramente si attende con ansia. Ragazzi, non vi perdete in chiacchiere, commentiamo questo trailer, vediamo un po' com'è e vi dico anche la mia. Ragazzi, mi raccomando, seguite il canale, iscrivetevi sempre, rimanete attivi perché la maggior parte di voi non è iscritta e potrebbe supportare il mio canale. Ma, soprattutto, seguitemi sulla pagina Instagram e rimanete attivi, ma anche su Twitch, tutti gli altri link. Deve non perdereci in chiacchiere e di guardare questo video, ragazzi. Andiamo a commentare questo e poi su tutti gli altri link. Da Lord Thunder è tutto, io aspetto la vostra nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. A prossimo video, ciao ragazzi. Bella. Ciao.